Questa casa è disabitata da 411 anni! Si dice che questa casa sia posseduta dal maligno! Si dice che in questa casa di notte si sentano grida e rumori molesti! Allora basta! 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 Non le posso più di queste cazzate! Va bene, l'ho ammetto, mi sveglio tardi, ok? Mi sveglio tardi! Dicerie, un film a cui non crederete mai!